Siamo d'accordo su tutto, io gli ho offerto Mengoni e Falchetti. Ma come abbiamo detto che sono incedibili Mengoni e Falchetti, Presidente, io non le voglio cedere a nessuno, l'ho dichiarata tutta la stampa, sono i nostri brillanti. Ma chi è brillante, brillanti? Qui si tratta di Platini, è un giro un po' complicato, ma lo sa che attraverso l'accezione di Falchetti e Mengoni non riusciamo ad avere la metà di Giordano da girare all'Udinese per un quarto di sicco e tre quarti di edigno, con cui... Borlotti! Beh dopo glielo spiego meglio, mi aspetti al bar. La nostalgia per Oronzo Canà è già tanta normalmente, perché tutti, ma proprio tutti, rimpiangiamo quel calcio anni Ottanta, fatto di miti, di bandiere, di agonismo vero, meno tecnico e veloce di oggi, ma pieno di fantasia e di bellezza. Figuriamoci quanto quella nostalgia sia aumentata a dismisura in questi ultimi due giorni. La Superliga fa ribrezzo, provoca rabbia, delusione, amarezza, perché se chi è appassionato davvero di calcio ha accettato sinora tutto, soldi, affari e potere incondizionato delle tv, lo ha fatto solo in nome di un amore razionale, senza limiti e confini, perché è proprio così. Il sentimento che si prova nel vedere quella palla rotolare in una direzione o in un'altra, colpire una traversa mortale o entrare in rete, a volte in quella giusta, altre in quella sbagliata, ebbene tutto questo ora non si può assolutamente più sopportare. Va ricordato che la Superliga sarà composta da 20 squadre, delle quali 15 partecipanti di diritto in quanto club fondatore. Al momento sono 12 quelle che hanno annunciato di aver aderito all'accordo, tra queste ci sono Inter, Milan e Juventus. Ricchi che devono riparare buchi di bilancio di milioni e milioni di euro. Ricchi che non vogliono avere più niente a che fare con chi non ha la stessa storia, tradizione e blasone, dimenticando però che la vita, dentro e fuori dal campo, è fatta proprio di questo, di un Davide qualunque che batte Golia, che mette in discussione la sua potenza e la sua presunzione. Se la Superliga diventerà realtà, dovremmo davvero mettere da parte per sempre tanti ricordi, come quel 3-3 tra Vellino e Juve, solo per citare una delle tante partite memorabili della storia del calcio bianco-verde. Ma la cosa incredibile che questo patto tra potenti sta provocando in questi giorni è la capacità di mettere d'accordo tutti, proprio tutti, anche tifoserie lontane, non proprio amiche. Questo posto dei tifosi atalantini di ieri, per esempio, è meraviglioso e poetico. Via i grandi club da là e spazio a piazze come Palermo, Catania, a Vellino, che hanno fatto, si legge, la storia del calcio come passione popolare in Italia. Perché il calcio è semplicemente questo, passione senza limiti, regole ingiuste e soprattutto senza presidenti che si sentono onnipotenti.